L'Italia si prepara ad affrontare un amichevole di lusso, questa sera a Manchester, la prima uscita ufficiale degli azzurri dopo la mare esclusione dei mondiali di Russia, la prima uscita ufficiale del Citi Pro Tempore Gigi Di Biaggio, che ha le idee ben chiare su come superare la delusione di novembre a San Siro. Dobbiamo capire quello che è successo, i ragazzi l'hanno capito molto bene, sono molto responsabili quelli che quella sera c'erano, anche se sarà difficile ma noi dovremo cercare di non parlare più di quello che è successo, altrimenti non ne usciamo più fuori, altrimenti non si può ricostruire qualcosa di buono ed è quello che sto cercando di far capire a loro. Ci sarà anche Buffon in campo all'Etihad Stadium, lui che avevamo lasciato in azzurro in lacrime al Meazza a 39 anni, oggi il capitano ha superato la barra dei 40 ma non per questo ha intenzione di togliersi già la maglia della nazionale. Sono venuto con grande entusiasmo, grande voglia perché alla fine, volenti o nolenti, ho 40 anni ma sono sempre il portiere della Juventus e non è proprio una squadra di quinta fascia. L'appuntamento per la sfida contro Messi e compagni è per questa sera alle 20.45 ore italiana. Grazie.